Diamo il benvenuto al dottor Fontana, amministratore unico della Pharma Labor, un'azienda che si occupa di produzione di strumenti che consentono al farmacista di confezionare prodotti galenici. Di cosa si tratta? La Pharma Labor è una società che produce e commercializza materie prime per uso farmaceutico, cosmetico e alimentare che servono ai farmacisti per fare le preparazioni galeniche. Quindi ci sono in primis le materie prime, poi c'è tutto quello che serve per allestire il preparato galenico, esattamente come diceva lei, le strumentazioni che servono al farmacista, quindi tutte le attrezzature da laboratorio che servono al farmacista per produrre capsule e compresse per fare le preparazioni galeniche e poi c'è tutta l'offerta di packaging che serve al farmacista per l'allestimento e il confezionamento del prodotto finito. Siamo nell'ambito della galenica e quindi nell'ambito dei farmaci che vengono allestiti in farmacia e che non sono un retaggio del passato, della storia, dell'antichità del farmacista che con mortaio e pestello allestiva la preparazione galenica. Invece sono l'elemento che guarda al futuro, dove il farmacista, grazie alla preparazione galenica, è in grado di coprire delle esigenze dei pazienti e far sì che i pazienti riescano ad avere dei prodotti personalizzati laddove non esiste una specialità medicinale già presente sul mercato. Quindi in casi in cui c'è necessità di o avere un farmaco personalizzato prodotto in galenica, in farmacia, nelle farmacie ospedaliere o farmacie territoriali, o se no il paziente non riuscirebbe ad avere proprio il farmaco. Cito per esempio il caso degli orphan drugs, i farmaci orfani dove le aziende farmaceutiche non si vogliono prendere la paternità dello sviluppo perché riguardano le malattie rare. Cito il caso per esempio di personalizzazione di dosaggio, di personalizzazione di forma per i casi di allergia. In tutti questi casi in Italia e in Europa è prevista la preparazione galenica che è una risposta a quelle che sono le esigenze del paziente. Oltre a essere estremamente professionale per il farmacista, molto legato alla nostra professione, anche io sono un farmacista, di fare preparazioni galeniche, proprio il cuore dell'attività del farmacista. Quindi si tratta di un ambito in potenziale forte sviluppo perché quello delle terapie personalizzate è un ambito che sta vedendo prospettive interessanti. Questo è vero? È assolutamente, come dice lei, è assolutamente vero. È in forte sviluppo perché la medicina va sempre di più verso la medicina personalizzata. Ma c'è anche il grossissimo vantaggio che questa è un'attività che non potrà essere mai scippata al mondo della farmacia. Non ci potrà mai essere uno scaffale di una grande distribuzione dove c'è la preparazione galenica. La preparazione galenica, la figura della preparazione galenica è collegata alla figura del farmacista che in farmacia svolge la propria attività. Quindi c'è un interesse professionale e anche un interesse commerciale e economico per dei risviluppi futuri. Quindi è importante la partecipazione a un evento come questo dove le aziende possono entrare in contatto diretto con il farmacista? È estremamente importante perché intanto è un evento dove ci sono molti convegni e dove c'è stata molta possibilità di trovare e di avere rapporti con i colleghi, con i farmacisti e dove grazie a questo evento qui a Farmacista Più abbiamo avuto la possibilità di presentare delle novità che abbiamo portato sul mercato. Una di queste qui si chiama Aloplus ed è un prodotto che serve a solubilizzare il minoxi in acqua, a fare delle preparazioni di minoxi in base non più con l'alcol agricolo e propilenico ma a fare delle preparazioni esclusivamente acquose. Le altre novità che abbiamo portato in fiera sono per esempio gli estratti di cannabis, i prodotti a base di cannabis, ci sono tutta una serie di materie prime nuove e innovative che sono a disposizione dei farmacisti che vogliono fare preparazioni galeniche basandosi e fornendosi da aziende serie e certificate come la Farmalab. La ringraziamo per la cortesia e le auguriamo buon lavoro. Alla prossima e grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.